segui la 7 anche su instagram la 7 ovunque con te vedete letizia brichetto moratti una signora molto ricca di buona famiglia però anche lei purtroppo ha preso quella malattia che sta spopolando tra gli hanno fatto il tampone ufficiale alla calendita è prodata sui social e anche lei ha trovato un social media manager uno di quelli che contribuirà alla distinzione dell'uomo sulla terra che lei ha detto letizia devi risultare un po più simpatica ci penso io in occasione proprio della stessa visita elettorale ai city angels ha pubblicato questo video guardatelo ecco la domanda non è solo vabbè io questo lo guarderei fino a domani mattina anche per la gente fa memoria sì sì no perché sembra proprio una festa divertente sì sì da scompisciarsi una festa divertente e lei non capisco perché non abbia fatto la ballerina comunque io la domanda non è solo perché letizia la domanda è chi letizia noi vogliamo sapere una cosa solo sì chi ti ha detto letì bello questo video ne esci proprio alla grande dai pubblichiamolo chi se l'ha detto ecco se tu sai chi te l'ha detto letizia non licenziare no 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 tu promuovilo ma toglitelo dai coglioni perché è uno che ti odia ecco questo tu lo devi sapere qui Grazie.